Miau! 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 Ma dove è andato il gatto? Non riesco mai a trovarlo dove è stato sparito ancora un'altra volta, si è nascosto! Dove sarà mai finita? Aspetta proviamo ad andare di qua! Ma cosa vedi? C'è una piramide fatta di diamanti! Oh mio Dio! Sì! Sì! Sono ricco! Sono ricchissimo! Ma com'è possibile tutta questa piramide di diamanti? Che strano! Ho sentito un miagolio! Proveniva da qua dietro! Andiamo a vedere un po'! Vediamo da questa parte! Ehi Miau! Eccoti qua! Finalmente l'ho trovato! Ma che fine avevi rifatto? E che cos'è quella strana costruzione lì? Ma è un'operatura tutto questo? Eh? Vuoi dirmi che hai fatto tu tutto questo? Davvero? Oh mio Dio! E come hai fatto? Quella strana costruzione c'entra qualcosa! Molto interessante! Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Come vedete l'armatura è un po' cambiata! Prima avevo quella lì in pelle, invece era una totalmente in diamante! E questo perché? Perché grazie a Miau ho scoperto questa fantastica costruzione che si trova qui alla mia destra! E adesso andiamo a vedere come moltiplicare i diamanti! Allora, per fare questo macchinario è molto semplice! Servono veramente pochissimi materiali! Un blocco, un blocco qualsiasi! Io adesso in questo momento ho preso la pietra cesellata, la cesella del sandstone! Poi due trapdoor e un blocco che voi volete duplicare! Perché questo funziona con tutti i tipi di blocchi, qualsiasi blocco che voi utilizzate! Allora, semplicemente piazziamo uno, due, tre e quattro blocchi in questa posizione lasciando in mezzo il vuoto! Dopodiché mettiamo un altro blocco qui, quindi in totale cinque blocchi! Dopodiché posiziamo una trapdoor sotto e una trapdoor sopra! A questo punto ci basterà aprire la trapdoor, buttare dentro il blocco che desideriamo e chiudere la trapdoor! Ora dovremo posizionarci sopra e cosa dobbiamo fare? Col tasto destro, mentre apriamo la trapdoor, dobbiamo schiacciare il tasto ESC! Quindi andare in pausa! In maniera tale che... No, questo non deve succedere, così non funziona! Apriamo! Vedete, adesso non funziona il trucco perché... E vedrete perché! Guardate nella barra sotto, nella barra sotto non compare nulla! Ho ancora il blocco e le due trapdoor! Per funzionare qui deve comparire il blocco che vogliamo duplicare! Ok ragazzi, allora bisogna avere il giusto tempismo! Bisogna avere quindi buttiamo dentro il blocco, chiudiamo! Dopodiché, istantaneamente appena apriamo dobbiamo chiudere e dobbiamo subito fare ESC! Dopodiché, usciamo e salviamo, ritorniamo di nuovo dentro e vedrete che... Un cazzo succede! Ok ragazzi, allora bisogna avere il giusto tempismo, giustamente! Quindi buttiamo dentro il blocco, chiudiamo la trapdoor e via! Ok? Adesso usciamo, ricarichiamo di nuovo e vedrete che avremo, pam, due blocchi! Pa 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 pa! Due blocchi proprio tutti quanti per noi! E poi potete continuare all'infinito questa procedura, fino a quando ad avere anche voi una piramide come quella di Miao! Eccola lì! Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, facciamo crescere il canale ragazzi! Everybody together! Tutti benvenuti quindi da parte mia e da parte di Miao! Miao saluta! Da parte di Miao è tutto, ci vediamo al prossimo video! Bella ragazzi e... BOOM BABY! BOOM BABY! BOOM BABY!